Ragazzi abbiamo un problema, Tina si rifiuta di avere una compagna a distanza, si è impossessata della camera e si è chiusa a chiave dentro, non vuole uscire Guarda, guarda, gli altri cercano di dirle Tina esci fuori ma lei non vuole sentire ragioni Io non so più cosa dire sinceramente, questa da Tina non mi aspettavo ma da scienziato quale sono voglio asporti una teoria Quale? Secondo me ci sono due motivi per i quali lei sta facendo questa cosa Il primo è perché l'abbiamo fatta arrabbiare facendola lavorare con i nerd che sono proprio i suoi nemici numero uno Cioè se lei c'è una cosa che odia nel mondo sono i nerd e noi l'abbiamo fatta lavorare con loro, con loro, sì con loro Quindi è molto arrabbiata Il secondo motivo, secondo me è egocentrica Quindi lei sapeva che in questo episodio avremmo fatto vedere altre cavie e quindi sapeva che doveva per forza trovare il modo di farsi vedere nel video Perché lei vuole farsi vedere in ogni video di questa serie e quindi si è inventata a questo modo Ti piace? Ma io dico, allora, allora Guardate come sghignazzone mentre Tina sta benissimo Sì? Che le stanze sono contate? Che ci sono quattro ragazze? Due devono stare in questa stanza? Due devono stare nell'altra? Lei invece è impazzita? Cioè, e vi farei notare anche una cosa? Non so se vi ricordate com'era la stanza? Ma guardate come adesso, cioè, che cosa ha combinato Tina? Ha stravolto tutto, cioè, abbiamo scarpe ovunque Ovunque, cioè, quante poglie di scarpe ha? È impossibile Quante a te? Non vorrei dire, ma in questo siete quasi amiche comune Non ci provare, non ci provare a dire una cosa del genere perché puoi essere decapitata Avete qualcosa in comune tu e Tina Non ci provare ti ho detto Abbiamo un bellissimo orsacchiotto, ovviamente rosa, come tutto in questa camera Tutta rosa, poi, tutta rosa Guarda, i profumi Anche vicino al computer, cioè, cosa ci fanno i profumi vicino al computer? Solo lei lo sa, davvero Non ho parole Poi, questa è la cosa più bella, ragazzi Per firmare il fatto che ormai questa camera è sua Si è fatta le foto e le ha messe Non so quando si è fatta queste foto Anche perché la maggior parte sono in piscina Però ci sono Io puoi ti farei notare una cosa Questa cos'è, la foto col pollice in mezzo Cioè, Tina, passi le giornate a farti le foto e neanche te le si fa bene E' presente quando sei in una città Chiedi a una persona a casa di farti la foto Ci metti il dito in mezzo Il dito in mezzo ti ha rovinato Tina è una di quelle persone E ti rovina la foto e pure la vacanza Esattamente Poi ho notato già una cosa Cioè, gira la telecamera Perché ho messo 200 specchi? Perché? Da scienziato voglio analizzare la psiche di Tina Ok, hai ragione, è una buona idea Quindi voglio esporti il mio pensiero Allora, la preoccupazione maggiore di una ragazza come Tina, ok? E' quella che da un giorno all'altro lei possa invecchiare e diventare brutta, ok? Quindi questo vuol dire che quando dorme ha costantemente incubi su questa cosa Quindi di diventare brutta E avendo specchi da tutti i lati Si sveglia con l'incubo Controlla E si accorge che tutto è a posto Capisci? Entreremo nell'albo degli scienziati Guarda, dopo questa analisi Proprio per dimostrare che questa teoria è azzecata Ci sono pure dei trucchi nel comodino Perché se vede che qualcosa non va si sistema pure durante la notte Quindi secondo me è così Comunque guarda, questo suo comportamento non fa altro che confermare che lei va buttata fuori Io te lo dico, non può più rimanere in questa casa Non può prendere il comando E non può chiudersi a chiave in una stanza Non può esistere Purtroppo hai ragione Ma in tutto questo noi ci siamo dimenticati di fare l'intro Colpa di Tina E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E che se ci giocheremo a The Sims 4 E finalmente dopo tantissime ore siamo riusciti a far calmare Tina Le abbiamo promesso che nel prossimo episodio ci sarà una bella sorpresa tutta per lei Io non ho idea di che cosa sia questa sorpresa ma ho paura Ho paura di quello che vuoi fare Dovrebbe averne anche Tina ma lei è talmente tontolona che appena ha sentito sorpresa È rimasta felicissima ed è uscita finalmente dalla stanza Avrà pensato a un paio di scarpe Esatto, non so però se accetterà di avere ancora una compagna a distanza Questo non è ancora chiarito perché Non l'ha specificato Esatto, perché è arrivato il momento di seguire i nostri sim al lavoro Anche per questo episodio avevamo chiesto di votare chi volette vedere per primo Ovviamente è stata votata Giulia Perché l'altra volta non l'abbiamo fatto in tempo Anche noi siamo curiosissimi di vederla E la seconda che ha preso più voti è Beatrice Sono felice, sai perché? Che fa il poliziotto, dai su Sai perché? Perché sono quelli che anche io ho più curiosità di vedere Quindi hanno scelto esattamente quelli che anch'io voglio vedere Guarda poi Giulia, cioè guarda come è vestita Io sinceramente c'è soltanto un'altra persona che voglio vedere più di loro Ed è Lia perché voglio vedere le barzellette che si inventerà facendo la comica e i suoi spettacoli Siccome Giulia ha capito come medico e Beatrice che poi da detective inizierà come poliziotto credo Sì Secondo me faranno morire da ridere quindi non vedevo l'ora di vederli all'azione E possiamo iniziare Non la riconosco a parte i tatuaggi che davvero È un medico non convenzionale Guarda escono da ogni parte, dal collo, dalle braccia Ma tu cosa stai dicendo? Che uno che tatuaggia non può fare il medico? No, no, no Non ti permette Non mi mettere le parole in bocca, eh Non mi mettere le parole in bocca quando non le dico Iniziamo a lavoro, non mi sembra molto convinta Giulia Ancora non ha fatto un passo, è rimasta qui davanti a fissare l'edificio Sta sperando che succeda qualcosa, magari che cade un meteorite proprio sull'ospedale Bellino però, eh Bellino, vero? Sì, molto carino Ho scelto tutti gli edifici bellissimi E guarda, ti dico già che noi non abbiamo solo la casa di lusso Ma un intero quartiere Abbiamo altre tantissime cose da visitare Quindi non sono solo bellini i posti di lavoro Ma ho fatto tante tante cose carine Che non vedremo l'ora di far vedere Soprattutto nei prossimi episodi inizieremo a mostrarvele Allora, Giulia Giulia? Allora, ti dovresti presentare Giulia Presentazione scortese Perché ovviamente è turbata È turbata dal dover venire qua al lavoro Quindi stai dicendo Ehi, sono qua Devo curare qualcuno Sì, sì Guarda i finti sorrisi che cerca di fare Aia Oh Subito Non me l'aspettavo Inizia Inizia subito Inizia subito Cioè, io non ho parole Non so cosa dire Sono arrivate delle bambine malate Poverine Sì, stanno male Giulia, 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 Giulia Allora Ammetti il paziente All'ettino medico Sì, quindi devi portare Arriva qualcuno correndo Disperato più di loro Ok Ma non vederti davanti alle bambine Ma sei un maleducato Ti ricordi che questo ragazzo Era quello che era nell'ufficio di Tina A guardarsi la televisione Ah, lui A guardarsi troppo a tv E non ti posso No, ci sta seguendo Ci sta seguendo Quindi inizia a diventare raccapricciante Vuole essere unito anche lui Secondo me vuole far parte esatto Dell'esperimento Ma no, non ci piace Cioè Giulia ha tolto un paziente Che sta per vomitare Dico Alla febbre a 40 Perché vedi Cosa sta pensando Alla febbre a 40 Questo signore Con tutti i lettini liberi Che ci sono Giulia fa togliere uno E fa sedere la bambina Io non so cosa pensare Ok Il signore ha capito Per fortuna Che c'erano altri lettini E si è accomodato da solo Perché davvero Giulia Giulia sei terribile però Non puoi far scomodare i pazienti Cioè Non va bene Non va bene Sta già mangiando Cioè Io non vorrei dire Ma ha visitato solo una bambina E lei si è già messa a mangiare Cioè Ma poi scusami Vedi delle persone malate Dovresti diventare triste E invece cosa fai? Pensi a farti un dolcettino Un cornetto Un cornetto Un cornetto Guarda Con la pancia Ho proprio fame Cioè tranquilla Non gliene frega nulla Del dolore altrui Io ti dico Da scienziata Quale sono Ok Pensavo che anche Un cuore duro Come quello di Giulia Si sarebbe addolcito Nel vedere pazienti Che stanno male Invece no Anche io lo pensavo Anche io lo pensavo Lo pensavo anche tu vero Sì sì In questo momento Cioè Guardate Guardate Qua ci sono dei pazienti Che aspettano Perché questo qua Non può farlo Non è il suo compito Quindi ci sono due pazienti Dovrebbe accettare Ma vabbè Vabbè Non giudichiamo Ci sono due pazienti Che aspettano E lei È qua che mangia Lei è qua che mangia Il suo dolcetto Se ne frega Beatamente di tutte e tutti Non so che dire Non so che dire Io ti farei notare Che prima era attesa Ora che ha mangiato È diventata felice Esatto Era attesa solo perché Doveva avere a che fare Con quella gente Sì Cioè Io non lo so Ascolta Facciamo Proviamo a farle Esaminare un paziente Ok La bambina O questa vecchia Secondo te No Facciamo con una vecchia Che nel caso in cui L'ammazza Almeno era Alla fine della sua vita E rispetto all'ammazzare Una povera bimba Dai scusami Rischiamo un po' meno Ma non sarà così cattiva Scusa Io non voglio rischiare Consegna il cibo Cosa vuoi che consegna il cibo Allora Non lo so Vediamo Le stai facendo consegnare il cibo Del microonde Che abbiamo scattato Dici Ok Allora Esamina il paziente Discuti dello stato di salute generale Assolutamente È una buona idea È una buona idea Ok Ok Sembra che sappia Cosa dire Cosa fare La signora Non è ancora morta Quindi C'è qualche speranza Per il lavoro di Giulia Facciamole anche curare Questo paziente Dato che ci è sembrata Molto propensa Sì Capito Penso che le piaccia Era molto È molto allegra la signora Quindi secondo me Secondo me anche Giulia è contenta Quindi dai Giulia cura il tuo primo paziente Allora Aspetta Prescrivi i farmaci Per gas E risatine Gas intende Quel tipo di gas Che esce Lì dietro E risatine Cioè Giulia pensa Che se una persona è allegra Come questa signora Vada curata Ha questo tipo di pensieri No perché Pensa che tutti Dobbano essere tristi Sì Sì E a quanto pare Io non ci credo Non ci credo Giulia sei una persona terribile Adesso la povera signora Guarda Le stanno dando la medicina No non le dia le medicina Non le prenda Non le prenda Signora Ok 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 Però io ti direi La sua malattia Sì sia stata curata In realtà Sta andando via Che sta peggio di prima Guarda com'è avvilita Non è più felice Non è più quella di un tempo Ed è finalmente arrivato Il turno di Beatrice Guardate come è vestita Non sta benissimo Con la divisa da poliziotta È nata per essere una poliziotta Lei non lo capisce Sta anche bene È troppo bellina vero Sì sta benissimo Guarda se lei non ci delude a lavoro Potremmo dire anche Che potrà diventare Una perfetta poliziotta Ma non lo so Addirittura un detective Allora dobbiamo Ottenere l'assegnazione A un caso Quindi credo Che dobbiamo andare Al computer Ok Ottieni l'assegnazione A un caso Vedi Perfetto Ok Facciamole avere un caso E vediamo come indaga Vediamo come si comporta Nel mentre anche noi Abbiamo un incarico Da scienziati Ci stiamo dimenticando Di fare una cosa Guarda il pc Dobbiamo pagare 23.000 dollari In bollette Simoleon In bollette Simoleon Scusa Simoleon Simoleon Non è tapposta No non lo sai dire Anche Comunque è un po' care Le bollette Abbiamo fatto una casa Ti puoi notare Un po' care Ma va bene Tanto ci pensiamo noi Che siamo ricchi Come scienziati Esattamente Ok guardala Stai indagando Ok allora Assisti Un'indagine In una scena del crimine Dove non l'ora Ok Andiamo avanti Andiamo Tanto vediamo cosa ci propone Ma pensi che la dovremmo assistere Aiutarla nelle scelte Non lo so Ok allora Abbiamo ottenuto l'incarico Raggiungi la scena del crimine Andiamo nella scena del crimine Ok Che figata Cosa succede adesso Io non l'ho mai provato Il poliziotto Ma manco io È bellissima sta cosa Allora Dobbiamo aiutarla Perché sappiamo che Beatrice È un po' Con la testa tra le nuvole Quindi Dobbiamo aiutarla Io se becchiamo un criminale La vedo malissimo Proprio male 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 Scena del crimine Nella scena del crimine Puoi trovare indizi Che ti aiuteranno a localizzare Un sospetto Indaga sugli oggetti Danneggiati o rubati E cerca indizi sul terreno Nei dintorni Per trovare altre prove Inoltre parla con i testimoni Per ottenere un rapporto Su quello che è successo È bellissima sta cosa Allora Guarda Lì c'è già qualcosa Vai Beatrice Raccogli un cam... Scatta una foto della prova Ma è un nano disegnato in terra Cioè che... Hai ragione Un vandalo Un crimine ferato proprio Qualcuno è pericoloso Dobbiamo... Beatrice Devi stare a te Prendi anche un campione Ma c'è un alieno C'è un alieno poliziotto Ma che cavolo sta succedendo? Ok L'abbiamo messo nel nostro inventario Perfetto Quindi adesso... Brava Beatrice Brava Ottieni il rapporto di un testimone Vedi lui è triste Lui è triste Quindi ha avuto a che fare Col criminale Ma hai visto chi c'è lì? C'è Steph Non ci credo Non ci credo Ciao Steph Dobbiamo sentire che dice Interroghiamo Steph Interroghiamo Steph Della nostra vecchia serie Di The Sims Ok Ok Guarda Steph Steph Raccontaci cosa è successo E cosa hai visto Cosa ti turba Steph? È arrabbiatissimo Guardalo È arrabbiatissimo Ne hanno fatto un torto E secondo me questa era la sua nuova casa Ha visto qualcosa di sicuro Ha visto qualcosa di sicuro Sentiamo cosa dice Ok guarda come prende gli appunti bene Bravissima Beatrice è una che sta a fare il suo lavoro Si sta scrivendo le cose nella mano Perché dice che le penne inquinano E quindi lei Capito È praticamente anche la carta La carta sta uccidendo degli alberi Esatto Quindi lei si prende gli appunti nella mano Bravissimo Che c'è un casino È pieno di poliziotti Non so se hai notato Ma sono tantissime Ed è pieno di nani disegnati per terra No andiamo dentro la casa Scusa Dai non rimaniamo sempre fuori No 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 Qua c'è qualcosa di diverso Aia Cioè è stato chiaramente un vand Ma lì c'era un morto Che cos'è questa sagoma Aia Qua è successo qualcosa di brutto Secondo me è caduto qualcuno dal tetto Che dici Se c'è una cosa Che Beatrice non può tollerare E che distrugge l'ambiente Soprattutto l'erba La natura Infatti vedi Hanno capito un po' la sua personalità E le hanno dato il caso Adatto Adatto a lei Cioè Vedi È arrabbiatissima Perché hanno inquinato l'ambiente Cioè non si possono fare queste cose Dobbiamo raccogliere dei campioni Delle prove Infatti si sta dando da fare Potrebbe essere la prima cavia Che lavora davvero bene Beh Le hanno anche dato un caso Comunque ha dato la sua personalità Quindi Però 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 Si sta comportando bene Almeno vedi Lei forse sta accettando In modo migliore Il fatto che deve fare un lavoro Che non c'entra niente Con il suo modo di essere Perquisisce il sospetto Oddio Oddio Questo è pericoloso Attenta Beatrice Speriamo che non trovi nulla di brutto Ok Ok Beatrice Vai Beatrice Ti prego Ah sa già come fare Sì Avrà guardato tanti polizze In tv Guarda Sa già come fare Uh Aia Cos'è La bambolina Ha una bambolina Ha una bambolina Sì era una bambolina Un martello Questo ha un martello in prigione Non si sa come Finito? Ma le sta facendo un massaggio Non lo so Ok Ok Ha finito Ha finito Una bambola e un martello Vedi questo è un ragazzo Un ragazzo No no continua Non si fida Non si fida Non si fida Vedi è molto prudente Molto prudente Sta prendendo seriamente il lavoro Bravissima Sta prendendo seriamente il suo lavoro E la giornata di lavoro di Beatrice È finalmente finita Si è impegnata tantissimo Ha fatto interrogare Tutti quei sospettati Che lei stessa Aveva fatto mettere Esatto Quindi è stata davvero brava Ed è la prima cavia Di cui andiamo fieri Brava Beatrice Le sta piacendo il suo lavoro È la dimostrazione Che non si è ancora cambiata Perché va fiera Della sua uniforme Ha fatto un sacco di cose Bravissima Lo stesso non possiamo dire di Giulia Giulia ha quasi ammazzato Una paziente È stata molto scortese E ha pensato solo a mangiare Non possiamo dire lo stesso di lei Esattamente In ogni caso Ci fermiamo così ragazzi Nel prossimo episodio appunto Ci giocheremo La sorpresa Per Tina Visto che lei vuole comparire In ogni video Ce ne approfittiamo anche noi E le facciamo qualcosa di cattivo Per farle un bello scherzetto Sarà davvero davvero divertente Beh ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuto Ascettici un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare la liga Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima